Ciao, sono Luca, eccoci di nuovo ritrovati per una serie di video su natura, biodiversità, cultura ambientale e tutta una serie di argomenti che possono essere interessanti o comunque che possono attrarre l'attenzione per andare a conoscere un mondo diverso. Come sempre potete seguirmi sulle pagine social, Facebook, Twitter e Instagram. Questo video viene caricato su YouTube, quindi se poi vi piacerà il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati sui podcast, sui video e sui social network per i post che metto. Mi trovate su Calcagno Consulenza a tutti i canali social e oggi invece parliamo di uomo e natura. Il rapporto tra uomo e natura è un rapporto molto complicato, soprattutto negli ultimi anni molti argomenti sono stati trattati in maniera molto poco approfondita. Ora, io non pretendo di fare approfondimenti o di, come si dice, provare a darvi delle soluzioni. Io vi spiego determinate cose, determinati aspetti e poi starà a voi valutare e trarre le conclusioni più idonee che pensate che siano quelle più giuste per voi. Però partiamo da un concetto importante, che è quello dell'habitat. Generalmente l'habitat è il luogo in cui un determinato animale, pianta, pesce, insetto, mammifero e non, vivono con determinate caratteristiche ecologiche. Cosa significa? Significa che l'animale ha delle caratteristiche ecologiche e l'habitat che lo contiene ha le caratteristiche ideali per far adattare questo animale. E poi all'interno dell'habitat l'animale da solo chiaramente non può sopravvivere. Cosa ha bisogno? Ha bisogno di risorse. Queste risorse, genericamente, per quanto riguarda i mammiferi, possono essere di vario titolo. Per i carnivori, banalmente, che cosa sono? Sono le prede. Per esempio, animali che si nutrono di piante, come per esempio gli insetti lepidotteri, quindi le farfalle, qual è il loro habitat importante? Dove ci sono le piante nutrici di queste farfalle. Poi, chiaramente, a seconda del periodo dell'anno, a seconda della stagione, a seconda di vari fattori esterni, che cosa succede? Succede che questi animali possono aumentare o diminuire, andando così a formare una sorta di grafico altalenante. Quindi, prendiamo un esempio classico per questo argomento di ecologia di popolazione, che sono i lemming, piccoli roditori, e le volpe artiche. Quando i lemming sono in gran numero, cosa succede? C'è la possibilità per le volpe artiche di predarne molti, e quindi il numero delle volpe artiche aumenta, mentre il numero dei lemming scende, perché sono stati predati dalle volpi. Viceversa, quando ci sono pochi lemming, che cosa succede? L'equilibrio si troverà con la diminuzione degli individui di volpe artica, e così via, per un lungo periodo di tempo, fino a trovare un equilibrio. Questo equilibrio viene sostanzialmente trovato da tutte le specie animali o vegetali, all'interno di quest'habitat. All'interno di un habitat ci troviamo anche chi? Noi. L'uomo. Che siamo una specie animale. Ci siamo evoluti molto probabilmente da un gruppo di scimmie che è evaso dall'Africa, qualche milione di anni fa. Bene, noi ci siamo evoluti, ci siamo adattati, in maniera più o meno corretta, ad un habitat. Qual è però il problema? Che l'uomo non ha l'equilibrio per determinare quali siano le risorse che gli servono di più, e le risorse che gli servono di meno. Questo causa tutta una serie di problematiche. Problematiche all'interno di un habitat, quindi lo sfruttamento inconsiderato delle risorse in un determinato habitat. Ormai con la globalizzazione sappiamo che le risorse vengono sfruttate, utilizzate in qualunque stato, in qualunque habitat, in qualunque luogo, ma non è tanto questo la problematica. E la problematica è la gestione di questi habitat importanti per la nostra sopravvivenza, per la sopravvivenza di tutte quante le specie animali o vegetali che stanno all'interno di quell'habitat. Quindi vedete, l'uomo ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la sopravvivenza di se stesso, e la sopravvivenza di tutte quelle specie animali o vegetali che si trovano in un determinato luogo, in un determinato habitat. Ed è importantissimo, perché se noi non abbiamo una cultura ambientale, se noi non abbiamo l'idea di come gestire questi habitat, non avremo neanche la minima idea di come gestire le specie. E qui arrivo alla considerazione che molta disinformazione c'è all'interno di questo concetto di cultura ambientale. Cosa intendo per disinformazione? Intendo che quello che a noi viene riportato, quello che noi vediamo, quello che noi scriviamo o leggiamo, è molto diverso da come effettivamente molto spesso è la verità della questione. Vi metterò alcuni esempi, genericamente quattro esempi di, tra virgolette, disinformazione. Partiamo con, per esempio, i ragni. Sono animali artropodi, sono invertebrati artropodi, hanno otto zampe, quindi già qui, quando magari a volte chiamiamo il ragno insetto, ecco, questo è un errore. Perché gli insetti hanno come caratteristica, diciamo una delle caratteristiche importanti, la suddivisione in segmenti del loro corpo è sei zampe. Mentre i ragni non hanno questa suddivisione ben precisa del corpo e soprattutto hanno otto zampe, quindi quattro paio di zampe. Le quattro paio di zampe sono, diciamo, il carattere distintivo per, diciamo, sostanzialmente definire quelli che sono insetti e quelli che sono, tra virgolette, aracnidi, ragni. Perché poi ci sono altre tipologie di ragni, per esempio gli opiglionidi che non sono propriamente dei ragni, hanno sempre sì otto zampe, ma non sono ragni. Gli opiglionidi, per capirci, sono quelli che noi impropriamente chiamiamo ragni, con le zampe molto molto lunghe. Vi metto una foto qua a schermo. Bene, cosa significa la disinformazione per queste specie di ragni? Caso notissimo è quello del ragno violino. Molto spesso ci capita di vedere foto, soprattutto quando cerchiamo su internet, o addirittura in articoli di giornali che sensazionalisticamente possono andare a mettere una foto di un ragno che non è il ragno violino. Perché vi dico il ragno violino? Perché questo tipo di ragno è potenzialmente velenoso e potenzialmente mortale per quanto riguarda l'uomo. Quindi noi poi associamo la foto, che magari è errata, a che cosa? A quel tipo di ragno, comunque a qualunque tipologia di ragno. E quindi andiamo a fare nostra un'informazione sbagliata. E quindi poi cosa succede? Che le persone magari più sensibili a questo argomento possono andare magari a uccidere tutta una serie di ragni che non c'entrano assolutamente niente col problema del ragno violino. Anche il ragno violino non va ucciso, chiaramente. Va preso con tutte le precauzioni del caso, per esempio intrappolandolo in un bicchiere, mettendo sotto il bicchiere un pezzo di cartone e semplicemente portarlo al di fuori della casa o del luogo in cui ci troviamo. Quindi già questo è un esempio. Un altro possono essere i serpenti. Tutte le volte che capita un serpente, per qualunque persona, o perlomeno molte persone che non sono del settore, sono tutte vipere. Quindi sono tutte pericolose, potenzialmente pericolose. In realtà, anche qui, non è assolutamente vero. Bisogna fare un distinguo molto importante. Vi ricordo che ho già fatto un video per distinguere come possono essere visti i serpenti velenosi e quelli non velenosi. Ve lo ripeto, una distinzione molto veloce è quella di vedere la coda. Quindi di solito i serpenti quando sentono un pericolo scappano via e noi all'ultimo vediamo soltanto la coda. Se la coda, osservandoli bene, perché poi c'è anche questo da dire, molto spesso noi non ci fermiamo a osservare determinate animali, ma li vediamo soltanto passare. Quindi cerchiamo di soffermarci e osservare la coda dei serpenti. Se la coda è nettamente accorciata, nettamente più sottile, verso la parte finale dell'animale, potrebbe trattarsi di una vipera. Altrimenti, se la coda è regolare e finisce in maniera regolare, probabilmente non sarà una vipera. Questo è già un sintomo di distinzione. Poi se riusciamo a vedere l'animale, chiaramente possiamo vedere l'occhio. L'occhio, la pupilla tagliata dei serpenti, indica una potenziale serpente velenoso, mentre per altri serpenti la pupilla tonda indica che quest'animale è completamente innocuo. Certo, può mordere, ma lo fa per difesa. Il morso di, per esempio, una natrice non è assolutamente velenoso. Sì, farà male, ma non è per niente velenoso. Purtroppo ci sono anche molte leggende, soprattutto nelle valli alpine, che vanno sfatate. I serpenti, soprattutto le vipera, non sono state lanciate dagli elicotteri. Magari a voi non ve ne fregherà assolutamente niente, però molto spesso chi lavora in campo ambientale, in campo naturalistico, sente queste sciocchezze e cerca in qualche modo di spiegare che non è vero che le vipera sono state lanciate, non è vero che le vipera sono state liberate, per poi quale chissà dannato motivo. Ecco, non ce n'è motivo poi, non c'è assolutamente nessun tipo di motivo. Certo è, a volte sì, ma non per le vipera. In alcuni casi animali sono stati rilasciati, ma genericamente per scopi venatori. Esempio, cinghiale, mini lepre, che sono due esempi calzanti per questo argomento. E poi c'è il lupo. Il lupo è un'altra specie di cui se ne parla molto, soprattutto perché in espansione, anche qui attenzione, non è stato introdotto, non è mai stato reintrodotto, si è espanso naturalmente. Le popolazioni residue che ci sono tutt'oggi sugli appennini hanno aumentato la loro numerosità e per la loro biologia si espandono. I giovani, soprattutto i maschi, i maschi non ancora in grado di riprodursi, si disperdono, quindi percorrono addirittura in una notte 100-150 km, quindi possono tranquillamente espandersi in maniera indipendente dall'uomo. L'unica cosa che è dipendente, come ho detto prima, per i lupi è il cibo. Mangiano ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi, a volte, ma difficilmente, difficilmente mangiano cinghiali. Può capitare, però deve essere un branco che risiede in quel luogo lì, perché da solo un lupo, un cinghiale di 200-300 kg non riesce assolutamente ad uccidere. Quindi vedete? Queste piccole informazioni vanno dette, perché se no, noi facciamo confusione e rischiamo di farci prendere dal panico con articoli sensazionalistici che dicono che il lupo è pericoloso per l'uomo in realtà non è assolutamente vero. Se il lupo è pericoloso per l'uomo ci troveremo di fronte a un'ecatombe di persone che vengono aggredite dal lupo. In realtà non è assolutamente vero. Il lupo, quando vede una persona, soprattutto di giorno, essendo lui un animale prettamente notturno, soprattutto la caccia è notturna, lui scappa, se ne va. Se questo dovesse accadere, quindi se è un ipotetico, poi ci sono tutta una serie di modalità per evidenziare se effettivamente si tratta di un lupo o meno, se un presunto lupo dovesse venire vicino all'uomo o addirittura attaccarlo, molto probabilmente non è un lupo selvatico, ma è o un cane lupo cecoslovanco, e qui ci sarebbe da aprire un vaso di Pandora, ma non ho proprio voglia, oppure sarà un ibrido tra un lupo e un cane domestico. Questo è un grosso problema, perché al di là di intaccare geneticamente la popolazione selvatica di lupo, quindi poi a lungo andare potrebbero esserci dei problemi di popolazione, quindi l'ibridazione tra lupo e cane domestico potrebbe dare dei problemi alla popolazione, quindi una diminuzione drastica del numero, molte persone a volte incuranti, lasciano i cani aperti, si dice così, quindi lasciano i cani liberi, i cani domestici liberi, e poi però si lamentano se un cane viene sbranato da un lupo. Io dico che senso ha? Non è meglio prevenire? Dato che è qui non ci piove, noi ormai dovremmo saper convivere con la fauna selvatica, per avere un rispetto maggiore del nostro ambiente, della natura, e quindi prima però di essere consapevoli dobbiamo informarci, informarci bene, non informarci da telegiornali o televisioni, ma chiedere a chi veramente sa parlare di fauna selvatica o di natura. Spero che questo video non vi abbia sconvolto, me lo auguro, se vi è piaciuto mettete un mi piace, ci ritroveremo con altri video molto presto, vi ricordo di sottoscrivere il canale per rimanere aggiornati su tutti i video che posterò da qui in avanti. Un caro saluto da Luca.